Io non ho detto io ci sono, ho detto che noi ci siamo, noi ci siamo. Edoardo Enesi ci ha spinto a chiudere dicendo tocca a te, tocca a te è il contrario del Gepensimi. Per i prossimi tre mesi faremo un Wikipedia, candideremo le nostre idee al governo del Paese, raccontando concretamente come fare dall'abolizione del finanziamento pubblico, dal dimezzamento dei parlamentari, dall'abolizione dei vitalizi per i consiglieri regionali e parlamentari fino alle grandi questioni di economia. È finito il tempo in cui uno pensa per tutti, è finito il tempo in cui basta un cavaliere bianco che risolve il problema di tutti gli altri. C'è bisogno di tante donne e tanti uomini, la Leopolda è stata un successo, non perché c'era Matteo Renzi, la Leopolda è stata un successo perché c'erano storie diverse che si sono emozionate e hanno detto che la politica è una cosa bella.